Nome? Nicoletta. Carlotta. Che fai? Studio. Scienze politiche. L'attrice? Dove sei nata? A Martina Franca. A Roma. Che tipo è Carlotta? È seria? Chi è Nicoletta? Una ragazza normale, diciamo. Pregi? È sincera, determinata. E ai difetti? È testarda. Un pochino egoista, un pochino sopra le righe. Vabbè. Fidanzati? Uno. Francesco. No. Questa non la dici, eh? No, vabbè, stai calma, ok. Amanti? No. Forse. La tua serie tv preferita? Gossip Girl. Grey's Anatomy. Il regalo folle che ti sei permessa? La borsa di Gucci. Paio di scarpe. A che età hai fatto sesso per la prima volta? A 15 anni. Passo. Quanti uomini hai fatto soffrire? Non lo so. Uno sicuramente. Hai qualche perversione? No. Fingi? So fingere. A me infranto la legge? Non da sobria. No. La materia in cui andavi meglio a scuola? Italiano e storia. Geografia astronomica. E quella dove facevi pena? Matematica. Diplomatica. Cos'è l'ablativo assoluto latino? Costrutto da lingua latina. Erasmus o orgasmus? Erasmus. Un po' di tutti e due. Cosa vuoi fare da grande? La diplomatica. L'attrice. Prossima vacanza? A Las Vegas. Credo Miami. Con chi parti? Con il mio fidanzato. Giaggetto con amiche? No. Mai senza? Cellulare per la fotocamera. Rossetto e cellulare. Valigione o Zenetto? Valigione. Parti alla ricerca di cosa? Divertimento. Relax. Sei su Facebook? Si. E su Twitter? Si. No. Sei diventata fan della pagina del film? Si. Si. A proposito, ma cosa c'è oltre il mare? Secondo me è un continente. Il mare. Ci vediamo al cinema? Certo, ci sono io, mi dovete vedere, no? Ci vediamo, Annico.